Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. Ultimo e Giacqueline Luna di Giacomo stanno per diventare genitori. L'emozionante annuncio è stato dato ieri, 24 giugno durante il concerto del cantante allo Stadio Olimpico di Roma. Giacqueline, 24 anni, è salita sul palco visibilmente commossa e, tra un abbraccio e una strofa, ha rivelato insieme al compagno che presto la loro famiglia si allargerà. Il pubblico ha accolto la notizia con applausi entusiasti, e sui social media il momento è diventato subito virale, con tanti utenti che hanno commentato la dolce rivelazione. Tra gli spettatori c'erano la sorella di Giacqueline, Rebecca, e il padre Giovanni di Giacomo. Dopo l'annuncio, Giacqueline è corsa da loro e ha condiviso su Instagram un video dell'intenso abbraccio con suo padre, soprannominato affettuosamente nonno Nanni, mostrando la forte emozione di entrambi. Giacqueline ha spesso parlato del suo papà sui social, descrivendolo come un uomo gentile e un padre premuroso, in netto contrasto con il rapporto distaccato che ha con la madre, Cader Pruisi, con la quale non ha veri contatti da anni.